Sicilia in zona bianca da sabato dunque. Anche i dati del bollettino diffuso oggi dal Ministero della Salute confermano il trend positivo che si registra ormai da giorni nell'isola. Calano ancora contagi e ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati 245 nuovi positivi su 15.005 tamponi processati. L'indice di positività è sceso all'1,6% e oggi la regione è sesta per numero di contagi in Italia. Diminuiscono anche i ricoveri. Altri 19 in meno in degenza ordinaria e 4 in meno in terapia intensiva. Sono adesso 415 posti letto complessivamente occupati negli ospedali siciliani di cui 370 in regime ordinario e 45 nelle rianimazioni. I decessi sono stati 9 ma anche questa volta 7 sono relativi a giorni precedenti. Sulla notifica postuma che è ormai diventata una costante, proprio oggi i funzionari dell'assessorato regionale alla salute hanno evidenziato che dipende dal ritardo, con cui vengono a volte caricati i decessi covid avvenuti a casa e il cui iter di comunicazione è più complesso. Tornando al bollettino odierno, i guariti sono stati 858. La ripartizione dei nuovi contagi per provincia registra 9 casi nell'Agrigentino. A Palermo ci sono stati 54 nuovi contagi, a Catania 78, a Messina 6, a Siracusa 37, a Ragusa 14, a Trapani 20, a Caltanissetta 15 e a Denna 12.